Martedì 6 novembre 2018 Oggi dovrete veramente essere come flash Perché il nostro award prevede un cash-in di 1 km di corsa Seguito da 5 round dove ci saranno 5 snatch e 10 oppure 7 calories sullo ski erg E poi come cash-out un altro km di corsa Carichi, pesi e quant'altro sulla grafica qui di fianco Il riscaldamento lo trovate nelle storie di Instagram E' tutto per oggi, a domani